Mancanza di programmazione, scarsa capacità organizzativa, queste le uniche parole che il padron del MedModa Massimo Pastorello ha voluto pronunciare chiaramente sollecitato. Quelle cause non dipendenti dallo staff, come si legge nella nota, sembrano essere il chiaro riferimento a motivazioni esterne che hanno impedito la realizzazione di uno spettacolo già organizzato. E qui appunto proprio la sollecitazione a raccontare qualche dettaglio in più ed arriva il riferimento chiaro all'amministrazione comunale. Turbato, amareggiato per la decisione che ha dovuto assumere, quella di annullare l'edizione 2016 del MedModa, manifestazione che tra alti e bassi, edizioni più luminose e altre un po' più sottotono, da vent'anni comunque è stato un appuntamento con la Moda per la città, unico evento di questo genere organizzato a Caltanissetta. L'annuncio con uno scarno comunicato, come si diceva, nel quale nessuna traccia delle motivazioni reali per le quali è stato deciso di non organizzare più la manifestazione che avrebbe dovuto aprire il sipario il 30 di maggio. Pare che una delle motivazioni fondanti sia stata la mancanza del contributo da parte del Comune, 12.000 euro più IVA quello dell'anno scorso, edizione presentata da Cecilia Rodriguez. Il fatto è che era già tutto pronto, infatti nella nota si legge una specifica. La produzione intende rifondere tutti gli stilisti e gli artisti che hanno già acquistato i biglietti aerei secondo gli accordi prefissati, e inoltre si continua leggendo, la produzione si scusa con le ambasciate, i consolati dei paesi provenienti degli stilisti, con gli stessi stilisti, gli artisti, i tecnici e tutti gli operatori coinvolti. Il MED di moda però probabilmente non morirà, infatti pare che possa essere organizzato in altre città della regione, e numerosi sono stati gli inviti arrivati anche da paesi esteri. Nessuna polemica in realtà da parte dell'organizzatore, niente rimbrotti e recriminazioni, solo una presa d'atto di una probabile mancanza di volontà. Su alcune manifestazioni locali di questo tenore, alle quali sono stati dimezzati i fondi o del tutto tagliati, è nata una polemica qualche tempo addietro da parte degli operatori del settore. Si ricorda quella sulla stagione teatrale, ad esempio, una cherelle che sembra non essere ancora finita del tutto. Soltanto un dissenso rispetto alle decisioni dell'amministrazione, che ha preferito puntare su altre scelte culturali.